l'uovo di drago si sta schiudendo mio padre dice che i draghi sono degli animali selvaggi e pericolosi e poi sputano fuoco io ho paura, è meglio scappare non è carino? ciao piccolo che bello, è così dolce Gastone, sii gentile con il cucciolo di drago basta coccinella cattiva come lo possiamo chiamare? che cosa ne dite di tenerone? no, invece si chiamerà dentone perfetto, dentone a me piace di più il nome coccolone artigli di fuoco che ne dite di Dave? sarà Dave il drago? si Dave, questo è il tuo nuovo nome Dave ha delle zampe enormi sono molto grandi questo significa che diventerà ancora più grosso ora che cosa vuoi, Gastone? e va bene prendi il bastoncino wow sei davvero intelligente, lo sai? vuole che gli grattiamo la pancia ma quant'è carino Dave è l'animaletto più fantastico di tutto il mondo dove è andato, Gastone? io non lo so oh beh, non importa adesso abbiamo Dave principessa Ollie è ora di tornare a casa devo andare, ciao a tutti ciao ciao Daisy, Poppy, fatemi tornare subito come prima o... sono Bambola Susina dammi da mangiare certo, sono sicuro che riusciremo a farne una coppia esatta entrate pure, bambini se adesso premo il tuo pancino mi canterai una canzone non provare neanche a pensare di premermi la pancia Bambola Susina dolce e piccolina lo sai veramente sei dolce e piccolina allora, come farai a riprodurmi? utilizzeremo questa macchina copiatrice guarda come funziona prendiamo una pallina da tennis la mettiamo proprio qui sopra ed ecco a voi una copia esatta wow e adesso tocca a Bambola Susina a dire il vero avrei cambiato idea potresti togliermi di qui? oggi non me la sento di essere copiata per favore non ti preoccupare tanto sei già stata copiata cosa significa? cosa significa? sì, vostra maestà no, vostra maestà come volete voi ma io non parlo così un pochino ti assomiglia però Bambola Susina anzi, è una copia perfetta certo e ora che abbiamo un campione di Bambola Susina possiamo farne quante ne vogliamo un momento ne basta soltanto una per rendere felici le gemelle in effetti sono d'accordo una sola Tata Susina è più che sufficiente perfetto adesso per favore mi potete trasformare? subito Tata ah, così va meglio ora tornerò al mio lavoro mia Bambola mia Bambola mia avete visto che bella statua? deve essere la riproduzione di una divinità senza dubbio allora siamo di sicuro vicino alla città perduta guardate questa bellissima pianta arancione ah sì, certo la conosco e il suo nome scientifico è Eliconia Iaquini e questa invece è chiamata Crisantemum Leocantemum come fai a saperlo? è scritto sull'etichetta oh, questo è strano anche la statua ha un'etichetta guardate qui ce l'ha anche questa e sulla pianta c'è addirittura un prezzo 4,99 beh, è assurdo secondo me sta succedendo qualcosa di molto strano è vero, qualche pazzoide deve essere venuto nella giungla a etichettare qualunque cosa sta piovendo non sta piovendo guardate, è un uomo della gente grande sta bagnando le piante non ci troviamo affatto nella giungla infatti ci troviamo in un vivaio Gastone ci ha portato in un posto sbagliato povero Barbarossa è a migliaia di chilometri nella vera giungla e noi invece siamo bloccati qui in un vivaio pronto? pronto siete quasi arrivati? eh, siamo ancora piuttosto lontani dalla giungla davvero? e dove più o meno? in questo preciso momento ci troviamo in un vivaio siamo in un vaso di giunchiglie di giunchiglie? oh, certo riesco a vedervi tutti cosa? sono nella serra guardate verso la porta buongiorno io credevo che avesse detto che sarebbe andato nella giungla ma questa è una giungla venite a vedere oh, basta è davvero ridicolo ad ogni modo immagino che abbia bisogno di essere salvato comunque oh, una delle stelle si sta muovendo forse una stella cadente oh, sì, la vedo anch'io sta per schiantarsi a terra wow, è precipitata qui vicino andiamo a dare un'occhiata guardate, è qui che la stella è caduta ha fatto un buco enorme è davvero incredibile e avete visto quel fumo? deve essere molto calda forza, scendiamo voglio vederla da vicino no, torneremo qui domattina quando la stella si sarà raffreddata che bello è mattina Pauli, la colazione non ho tempo, papà una stella cadente è precipitata nel prato ieri sera che bello è mattina Ben, non vuoi fare colazione? più tardi, mamma devo andare a vedere la stella cadente ciao, Ben ciao, Ollie wow, cos'è che ha fatto questo buco? una stella cadente è precipitata dal cielo che meraviglia allora, avete visto com'è fatta questa stella cadente? non ancora, ma stiamo per scoprirlo, vostra maestà abbassare la chela la stella ha le finestre che cos'è? un'astronave? sembrerebbe un disco volante il portello si sta aprendo niente panico per ora ma questa potrebbe essere un'invasione aliena blip, blip, blip ah, invasione aliena invasione aliena potete farvi prendere dal panico blip, 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 blip adesso sollevate qui i sassi, per favore ora provate a muoverli in avanti com'è difficile ora, all'indietro quando batterò le mani a terra eccellente! e adesso, per concludere, una semplice domanda la magia deve essere usata solo per motivi seri? oppure per divertirsi? la risposta è la magia deve essere usata solo per motivi seri giusto! tutte voi avete passato l'esame di magia urrà! e io sono di nuovo la signora Elfo ora potete abbracciarmi i miei complimenti, bambine ecco qua le vostre licenze firmate da me il capo esaminatore sapevo, l'avrebbero superato hanno imparato da me già, questo rende il loro successo ancora più straordinario grazie, vecchio saggio Elfo qualcuno di voi ha voglia di festeggiare? oh, sì! possiamo fare una festa! e quello che ci vuole per una festa è gelatina magica! ah, tata Susina non credo che sia il caso gelatina magica ancora e ancora! ah! inondazione di gelatina! inondazione di gelatina! per Dindirindina forse ho usato un po' troppa magia insomma, tata Susina tu hai la licenza magica, sì o no? ma certo che ce l'ho! oh, bene! questa purtroppo è scaduta! che cosa significa? significa che... oh! non vale niente! quindi non posso fare magie? no! è contro la legge, lo sai? nessuna fata adulta può fare magie senza una licenza! cosa? sono costretto a requisirti la tua bacchetta! oh! questo non lo puoi fare! l'ho appena fatto! è un oltraggio! il re sarà molto arrabbiato! oh! gastone! caro gastone! il mio migliore amico! aiutaci! ti prego! siamo intrappolati! gastone! corri subito a chiamare tata Susina! da dam di dam di du! fatto! ora è di nuovo tutto pulito! no gastone! fuori! fuori! che cosa? ben holly, il re, la regina, il signore, la signora elfo sono rimasti chiusi in una vecchia miniera? presto! non c'è tempo da perdere! portami là, gastone! c'è qualcuno? tata Susina! grazie al cielo sei qui! siamo intrappolati! ora vi libero! ci vorrà solo un attimo! aprirò la porta con la magia! oh! non ha funzionato! no! perché la porta è stata sigillata con la magia dei nani! l'unico modo di aprirla è rispondere alla domanda! quale domanda? un aereo vola a 300 km all'ora! quanto deve essere forte il vento per ridurre la sua velocità del 15%? questa porta mi prende in giro! tata! fa apparire una vanga e tiraci fuori! oh! 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 ci impiegherò dei secoli! ci sono! gastone ce la farà in un attimo! certo! gastone è il più bravo di tutti a scavare! gastone, vecchio mio! aiutaci a uscire! eh... vuole che diciate per favore? oh! per favore, gastone! urrà! gastone al salvataggio! ti ringrazio, gastone! presto! entrate tutti in casa! chiudete bene porte e finestre! oh! hai visto? ci sono delle piccole finestre in questi funghi! molto bene! venite tutti qui, bambini! sì, signorina Biscotto! quelli sono dei funghi velenosi! spuntate funghi velenosi dalla lista! funghi velenosi! signorina Biscotto, i funghi velenosi hanno delle piccole porte e finestre? eh... no! andiamo! andiamo a vedere un luco! oh, Lucy, ci è mancato poco! sì, ma per stavolta ce la siamo cavata! ora sulla nostra lista c'è una quercia! forza! andiamo a cercarne una! oh no! stanno andando dritti, dritti al grande albero degli elfi! dobbiamo arrivare lì per primi! gente grande! gente grande! stanno venendo qua! ah! gente grande! gente grande! entrate tutti nell'albero! arrivano! chiudete le persiane! bene! ora sembra un normalissimo albero! oh, guardate! c'è un omino in quell'albero! eccoci qua! potete riconoscere una quercia dalla forma delle sue foglie! scusi, signorina Biscotto! abitano degli omini nelle querce! cosa? ma certo che no! potete spuntare quercia dalla vostra lista, ragazzi! quercia! uff! ci ha mancato poco! è vero! pochissimo! bene! la prossima voce nella lista è insetti! da questa parte, bambini! oh, oh! guarda! stanno andando dritti, dritti al piccolo castello! dobbiamo arrivare prima noi! aspettatemi! papà! papà! sta arrivando la gente grande! gente grande? presto! tata, chiudi le finestre! bene! cos'è questo rumore? stanno arrivando i giganti! svelti, nascondiamoci! guardate! è solo Lucy! la bimba che abbiamo conosciuto alla fattoria! e c'è anche il suo papà! questo posto è davvero bellissimo! sì, papà! è un peccato che dobbiamo metterci a scavare! metterci a scavare? perché? per costruire una stalla per le mucche! delle mucche! nel nostro prato! sono stra gigantesche! potranno pascolare qui a loro piacimento! basta appiattire queste gallerie scavate dalle talpe! quella non l'ha scavata una talpa! è la tana di Gastone! Gastone! voglio onorare al suolo la tua bella tana! non preoccuparti, Gastone! puoi venire a vivere da me al piccolo castello! costruiremo la stalla esattamente là! oh no! così la stalla finirà proprio sopra il piccolo castello! non preoccuparti, Ollie! tu e Gastone potete venire a vivere da me al grande albero degli elfi! e sistemeremo la scorta di concime laggiù, accanto a quell'albero! oh! ma quello è il grande albero degli elfi! che cos'è il concime? è la popò di mucca! allora forse non verrò a vivere al grande albero degli elfi! grazie comunque, Ben! comincio subito a costruire il recinto! psst! Lucy! Lucy! ciao, Ben! ciao, Ollie! tuo padre ha deciso di sistemare le mucche proprio dove viviamo noi! sì, è davvero terribile! devi dirgli di fermarsi subito! d'accordo, allora vado a spiegargli che le fate e gli elfi vivono qui! no, no! la gente grande non deve sapere dove viviamo! ma io faccio parte della gente grande eppure lo so! perché tu sei speciale! che cosa possiamo fare? andiamo a chiederlo al vecchio saggio elfo! quelli erano due incantesimi veramente stupidi! qualcuno di voi conosce invece un incantesimo utile? gelatina magica! hai detto gelatina magica? sì, è un incantesimo molto utile! immagino che la gelatina abbia la sua utilità! come alle feste di compleanno, per esempio! oppure a un picnic! o quando hai voglia di un dolce! va bene, gelatina magica! ma voglio che sia una persona sensata ad agitare la bacchetta! io, io, io! lo faccio io! voi sapete chi è la persona più sensata presente qui? il vecchio saggio elfo! allora sarà il vecchio saggio elfo ad agitare la bacchetta? io? ma io non sono una fata e non so assolutamente usare la magia! risposta esatta! è lei la persona perfetta! oh, io non credo affatto no! sta commettendo uno sbaglio! non è vero! ci vuole solo un pizzico di polvere di fata! e lei adesso è diventato magico! il mio corpo è tutto risplendente! e questo non mi piace per niente! non si preoccupi! non rimarrà magico ancora a lungo! adesso agiti la bacchetta e dica gelatina, gelatina, ma soltanto pochina! eh... gelatina, gelatina, ma soltanto pochina! oh! ha funzionato! posso trasformare Tata Susina in una rana? ah! voglio vedere se ci riesci! sapete che vi dico? è davvero divertente! oh! che cos'è successo? eh 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 eh! oh oh oh! vecchio saggio! che cosa stai facendo? mi diverto un mondo! la magia non deve essere divertente! che cosa succederebbe se chiedessi moltissima gelatina magica? provaci! vediamo! gelatina, gelatina, gelatina! stavolta ne voglio tantina! no! si fermi! così scatenerà una... inondazione di gelatina! oh oh oh! buongiorno! io sono la vostra nuova insegnante! lei è la mia assistente! la signora... è nascosta sotto la scrivania! oh! buongiorno bambini! io sono la signora Elfo! si rilassa signora Elfo! non ha niente di cui preoccuparsi con me al comando! allora bambini, adesso! ehi! hanno fatto scomparire la regina! sono rimaste soltanto queste! bambini! che cosa avete fatto alla regina? via! noi mandate a via! pronta? oh! regina Cardo! i bambini mi hanno spedito da qualche parte! ma ritornerò al più presto non appena avrò capito dove sono finita! dovrà occuparsene lei finché non sarò tornata! oh! va bene! arrivederci! signora Elfo! è lei l'insegnante adesso! sì! niente panico signora Elfo! tu ce la puoi fare! sei tu al comando! eh... forse dovremmo togliere loro le bacchette! ottima idea Ben! niente più magia! adesso faremo un bel gioco che si intitola Nascondiamo le bacchette! prendo tutte le vostre bacchette e le nascondo in questo cassetto! così! ottimo! e ora bambini! fatemi un bel disegno! qual è il vostro soggetto? delle farfalle? o dei coniglietti? dinosauri! guardi! a Tarquini i dinosauri piacciono molto! oh! va bene! grandi denti! è vero! ora usate la vostra immaginazione chiudete tutti quanti gli occhi e poi provate a immaginare come poteva essere la terra dei dinosauri è sicura che questa sia una buona idea? a me sembrano felici e anche tranquilli provate a immaginare dei grandi vulcani delle immense foreste dei dinosauri fate finta di essere veramente laggiù tata Susina! fa apparire subito il pranzo! purtroppo non posso vostra maestà è il giorno senza magia ve lo ricordate? e allora che cosa mangeremo? volete venire a pranzo al grande albero degli elfi? è carino da parte tua Ben! noi abbiamo moltissimo cibo! sul serio? allora accetteremo il tuo gentile invito è tutto molto tranquillo è permesso? scusate c'è nessuno? Ben! come mai la scala mobile non funziona? eh... non lo so proprio vecchio saggio elfo che cosa sta succedendo? a dire il vero proprio niente ma non dovete costruire dei giocattoli? si Ben! abbiamo un grande ordine per Babbo Natale ma non riusciremo mai ad evaderlo perché no? perché il motore degli elfi oggi ha smesso di funzionare lo possiamo riparare gli elfi sono bravi a... no 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 non può essere riparato il motore degli elfi ha finito il carburante oh e da che cosa è alimentato questo motore? non ve lo posso dire deve dirmelo glielo ordino questo è un segreto vecchio saggio elfo da quale tipo di carburante è alimentato il motore? oh da... ma... ma... no... ma... ma... maionese? ma... ma cedonia forse? no ma... dalla maggiorana? magia! dalla magia? ho sentito bene lei ha appena detto che il motore degli elfi è alimentato dalla magia? sì ma tutti voi detestate la magia sì ha i suoi vantaggi comunque non inquina per niente e non si esaurisce mai a parte quest'oggi esatto perché quest'oggi è il giorno senza magia non c'è un altro modo per far funzionare la fabbrica? sì c'è il generatore di emergenza certo è ovvio assomiglia ancora molto a fragolina però è vero deve essere travestita perfetto prodi eroi di Kiki fieri anche di più solca in su la nostra nave in profondo blu salve buongiorno sono un elfo e mi sono appena trasferita qui oh davvero? e dimmi come ti chiami piccolo elfo? fragolina oh è un bel nome cioè Alice ancora più bello su entra questo elfo è una spia delle fate diamone delle informazioni assurde sulla nostra barca d'accordo? wow la vostra barca è davvero enorme già e pensa che non è ancora finita dobbiamo metterci le zampe ora zampe? tutte le navi vichinghe ce l'hanno zampe di papera zampe di papera e poi cambieremo la testa di drago con una testa di popotamo sì che sputa fuoco molto interessante beh mi ha fatto piacere conoscervi ora è meglio che vada metteremo davvero quelle cose buffe sulla nostra barca? no è soltanto quello che la spia andrà a riferire a Tata Susina e così lei costruirà una barca ridicola eccomi qui oh un elfo no sono io la nave vichinga degli elfi è veramente enorme nessun problema la faremo ancora più grande e ci servono delle zampe di papera su serio? che zampe di papera siano? e anche una testa di popotamo sul davanti che sputa fuoco ma io non ce l'ho una moneta le hai appena fatte sparire oh senza una moneta non possiamo farne altre io ho questo bottone magari funzionerà funzionerà fa di nuovo il rumore dei pop corn oh oh si è riempito di bottoni Tata si possono comprare le cose con i bottoni? signor elfo le va bene se la paghiamo con dei bottoni? ehm no il baule magico dei soldi è rotto? si vostra maestà per qualche strana ragione fa soltanto bottoni e noi dobbiamo pagare il signor elfo sta tranquilla Ollie sistemo io tutto è un po' imbarazzante ma purtroppo siamo a corto di soldi al momento non dovete sentirvi imbarazzato maestà non ne avete motivo mi dispiace sul serio no no non c'è il minimo problema davvero bene allora fatemi sapere quando avrete i soldi e io vi riporterò subito il cibo a presto oh a presto ho una buona notizia e anche una cattiva davvero e qual è quella cattiva? la cattiva notizia è che non c'è nessuna buona notizia il signor elfo si è portato via la colazione è tutto perché non abbiamo quegli inutili soldi a cosa servono i soldi? io non lo so esattamente Ollie ma gli elfi sembrano tenerci molto non potresti aggiustare il baule magico dei soldi papino? il baule non è rotto ci serve solo una moneta d'oro da buttarci dentro chi ne ha una? questo è il problema caro nessuno di noi ce l'ha oh qualcuno di voi sa dove trovarla? mio padre viene pagato con delle monete in cambio del suo lavoro veramente? puoi trovare un lavoro papà e farti dare una moneta d'oro? beh suppongo di poterci provare quale tipo di lavoro ti piacerebbe fare papà? non ne ho idea ma devo saper fare un mucchio di cose sono il re su siediti ti prego lo vede? è impossibile si è adotta bisogna essere fermi il suo animale deve capire chi comanda adesso faremo vedere a Gastone come si cammina il guinzaglio bravi miei ragazzi molto bene ci vuoi provare anche tu Gastone? no non parli a Gastone in quel modo che comanda fra voi due? beh ho sempre pensato a Gastone come ad un amico no è lei che comanda glielo dimostri Gastone piede camminare Gastone mento in fuori e non fare il pigrone molto bravo Gastone davvero molto bravo e ora tocca a lei signor Cardo piede non male ma a voce più alta piede ok tutti alla corsa ostacoli coraggio non gingillatevi e adesso l'alta lena molto bene attraversare il tunnel eccellente slalom tra i pali e saltare oltre la pozza di fango per favore non si vola Babby avanti Gastone prova a saltare non dimentichi chi comanda Gastone salta molto bene ora l'alta lena bel lavoro dritto nel tunnel per favore bravo Gastone slalom tra i pali e salta oltre la pozza di fango oh oh Gastone ci è finito dentro è ricoperto di melma oh oh che importa è solo un po' di fango non è vero Gastone? pronto intervento? salve parla tata Susina sono bloccata qui al lago bloccata hai detto? resisti saremo subito da te pronto intervento Elfi al lago qual è esattamente il tuo problema? le mie gambe sono stanche potrei avere un passaggio cosa? tata Susina il pronto intervento Elfi serve solo per l'emergenza e tu lo sai e va bene calma mi date un passaggio o no? questo si che è viaggiare tè, biscotti e una splendida vista papà posso provare a pilotare? no Ben non sei abbastanza grande ma non è giusto i grandi si prendono tutto il divertimento già anche noi vogliamo salvare le persone un giorno lo farete dovete solo aspettare di crescere grazie pronto intervento e non farci più sprecare il nostro tempo che gentile il vecchio saggio Elfi ha ragione tata Susina è vero il pronto intervento Elfi serve solo per le emergenze oh e va bene forte siete stati soccorsi dal pronto intervento Elfi vero? vorrei che anche noi potessimo salvare le persone ah sì peccato che gli adulti non vogliano sono così noiosi oh qui pronto intervento ah grazie al cielo per favore abbiamo bisogno del vostro aiuto qual è il problema? una grande mucca è rimasta impigliata nei cespugli di more arriviamo immediatamente attenzione a tutte le unità mucca impigliata nei cespugli di more pronto intervento quest'oggi impareremo delle cose meravigliose sulla natura e su Fluffy il nostro criceto chi di voi sa dirmi che tipo di animale è Fluffy? è un criceto? sì ma che tipo di animale è un criceto? è un mammifero è un mammifero? esatto bravissima Lucy e il suo nome scientifico è mesocricetus auratus e il suo nome scientifico è mesocricetus auratus santo cielo noi lo chiameremo semplicemente Fluffy oh no Gastone ha sentito il profumo delle banane e lui adora le banane Gastone vieni subito qui fermo torna indietro noi siamo circondati dalla natura guardate questo piccolo insetto qualcuno di voi sa come si chiama? Gastone ed è un maschietto molto divertente Lucy è una coccinella quella? sì esatto è proprio una coccinella e sapete che cosa mangia? a lui piacciono tanto le torte e anche gli spaghetti alla bolognese torte e spaghetti alla bolognese no le coccinelle mangiano i pidocchi delle piante mettiamola al sicuro in questo barattolo oh no Gastone è in trappola la lasceremo libera più tardi spero che non stia troppo scomodo lì dentro non preoccuparti lo faccio uscire io dal barattolo ma così ti vedranno sta tranquillo Ben farò molta attenzione signorina Biscotto c'è una fata che cammina sul mio banco una fata dici? vediamo un po' tata Susina arriva l'insegnante fingi di essere un giocattolo oh sì sono un giocattolo oh ma è una piccola fata madrina di chi è questo giocattolo? è mio te la ricordi la nostra regola? nessun giocattolo in classe esattamente la metterò nel mio cassetto e la potrai riavere a termine della lezione va bene? sì signorina